Facciamo una pecherina, prendiamo il bigliette da Kabust, ne mancano 10 e qui adesso qua ti dice quelli che mancano, non ti dice quelli che hai che cosa è questa cosa nera, si ma non mi puoi fare queste flashate così io penso che la mappa sia quasi il finito, poi vedo questa cosa nera qua è una specie di dildo formato gigante, no è una fortezza, c'è una rete che ci sarà mai dentro la fortezza, andiamo a vedere dentro la fortezza, andiamo a vedere dentro la porta che c'è, la porta dove stai? è chiusa, io la molleggia, se soffre non c'è giù, è un boi, boi allora, cerchiamo un'uscita perché questa qua dura, un cero è un cavolo, non vedo lì, andiamo raso raso alla rete che mi inquieta un po' che sta qua fuori, che vuoi che sta là dentro madonna santa, questi furi, che voi magari non li sentite forti, però si sento a dire oh mio dio, oh mio dio, oh me la sto faccia tutta, non c'ero entrata, oh alleluia, e ma manca, manca, mi sta trorollando sta mappa, ma che ca... oh, la mappa mi trorolla anche a borsa, ok ora mi sento più sicuro, aiuto, vai con me apri, aperti il senso, eh, non c'è al senso, no, devo trovare un'apertura, che non c'è mi sta trorollando sta fotturissima mappa, voglio slender normale, qua ooooh, li hai muovati, quindi siamo dentro, siamo dentro, ora siamo dietro al camion, per chi fosse cieco, e chi fosse cieco, non guarderebbe il video, alla comunque, boom, aria da faccia, ma non ha una loggia, non ha un'indicazione, qualcosa, qua qua c'è solo un castello, non è chiuso, qua vedo un'altra cosa che preoccupa, è una montagna, allora giriamo così, perché non c'è becca, eh, non c'è bisogno, ci stanno volendo, questa è la lampada di mezzo notte il matto, quindi vediamo se si apre, lo che, lo che pathetic stopped rotto, ecco, ehh, Il fatto è che quando ti viene una cosa del genere poi lui ha qualche malattia alla vista che ci vede a pallini o c'è lo Slender ma ho vinto una sfinta slenderata. Non lo so, non lo so dove veniva, non lo so dove veniva passare il cuore, però questo sicuramente dura molto, molto, molto di più in conversa livellata, l'altro sembrava che c'era un po' di tempo e è venuto pure l'ultimo. Ma dove va, non ci sta niente, è chiuso, vede un cannone, ma che per un momento questo il cannone non ci dice niente, vede un super river cannone puntato verso l'aria, ma ho paura che è un po' vietante, tipo, con la foresta, ma io dovrei entrare là dentro, sì, siamo sicuri vero, io dovrei entrare tipo qua dentro, che non si capisce un cavolo queste fottute pagine dove stanno, ma lo Slender che sembra da biancafè, oh, ho ritrovato la strada principale, che è molto più raccontato da...oh, forse questa... poi mi farà una parte tirata, ma... pa 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 po po...op pa pa po...pa pa pa...p imparata dall'escursione continuata e parla di volete ho una chiave che non serve a nulla perchè lo portano gli dico a minuti rocchetti allora ma questa è una piedra pensavo che era tipo un camioncino niente la stata si inizia a fare e fa cosa da chi un dildo formato gigante ma guarda una cosa ma sicuramente c'è qualcosa ma che è per salvare questo formato delle batterie che poi non so che servono la torcia non si scalda le batterie ahhhh l'ho trovato l'ho trovato il bigliettino ahhhh niente sono infatti sono infatti ma se tipo io cado qua dentro dici che mi ritrovano mmm io voglio andare voglio andare su quel dildo lo voglio commentare che cosa avrei detto che cosa avrei detto nooo ho detto di no dai spara flash a qualcosa dai dai che cosa avrei detto che stiamo a scena dalla montagna stiamo a stare andando su quel dildo prendo la strada per il dildo no 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 questa ultima faticata ok questa facevo un po' di più strana però ho un pisciatogno perfetto ho un biglietto del pisciatore salve c'è nessuno no devo spassare ciao io corro nel buio poi quello che trovo trovo ecco appunto mi spara flash a sto coso eccoci di nuovo a sto coso e allora che intanto non riesco a entrare allora diciamoci per cosa si è stancato in modo senso ci si è inchiappiettata dietro o a pegorella ho ritrovato la strada eh 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 vedo la testa dai spingi vedo la testa e due debilisioni e due restanti Oh! Quanti adoro te lo partisco? Bacchus! Allora Qui ci sono i barili Perché c'è del sangue invece dei barili? Lo so Che non mi interessa Ecco Cosa c'ha degli spara flash così Gli spara flash strani Mi sta a rendere Ho paura che mi appartino Mi sa che sarà andato Da qualche parte E appazzicavo i suoi Oh! Che c'ha? Oh! Siamo Qua Oh! Foglietto Ne mancano sette ragazzi Ne mancano sette Lo strand però si sta facendo un sonido Dino like a boss Ma schioppettano tutte le luci Mi fanno via i colpi Ora iniziamo a fare un po' di parkour Un po' di Ezio Un po' di Ezio di Torino Mi fa una bocca Guarda Tutto 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 di cortina Leca bar Ti è impara Ezio No! Che cosa cavolo Sta giù mi sa Mi sa che sta giù Eh lo so Eh però così non ci capisco un grado Grazie Eh nè nè Madonna santa E mo Mi butto Mi butto Like a boss Camminiamo Via 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 No perché sennò Mi dirigevo Qui Guardiamo WAAA 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 Non mi impatta Delente Eh What? L'ho visto Stava là sotto Stava ancora Lo sotto Ma non Dove sei? Bastazzo Mi stai aspettarsi E Ti riempio di passione Spacco Batele E ammazzo tutta tua famiglia Dove sei? Bastazzo Bastazzo Fatti vedere Fatti vedere Eccoli qua sotto Bastazzo Si stai facendo i giretti Lega boss Mi sta aspettando Qua sotto Mi sta accadendo Eh Non ci vedo più Cavolo No no Faccio un 360 Stava Che padre Dove? What? What the fuck Ah Bastazzo Stai all'azento Eh Ma voi avete Sì Ok E mo Dovrei scendere Eh Non voglio scendere Mi sto aspettando lì, ecco là, mi sta aspettando la cabossa lì, io non voglio scendere, facciamoci la cabossa tu non mi ha mai, no, no non mi ha mai, eh, 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 cagasse sotto le pietre vabbè poi andiamo a fare pochi d'artificio ora che succede? ho visto una sagoma ora dove sto? a me mi trovo what the what what the fuck che vuoi? minchia guardi minchia guardi 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 ma ne ho uscito io una volta qua si ma magari no sai vorrei vedere aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa penso che questo episodio sia finito e un saluto a tutti Bye Tundra! Bye!